Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento che Trend Online dedica a tutti gli appassionati e ai trader nei metalli preziosi. Oggi analizziamo il mercato come di consueto in diretta, in real time, oggi è il 23 giugno 2015 e io sono Carlo Vallotto, analista e trader nei metalli preziosi, gestore del sito metallipreziosi.it Bene, oggi andiamo subito a vedere che cosa ha fatto l'oro proprio nella giornata di ieri e vediamo che ha avuto una forte flessione subito dopo la comunicazione dei dati sulle vendite dei casi esistenti negli Stati Uniti che ha rilevato un dato migliore delle attese. Quindi c'è stato un sell off del bene rifugio. Ecco, come già nelle altre edizioni di video che avevo mostrato, c'è l'oro che rimane all'interno di questa fascia laterale, un trading range che dura ormai circa da tre mesi e adesso in questo momento siamo nella parte bassa 1181. Bene, l'idea sarebbe quella di tentare una posizione long nel momento in cui c'è la tenuta di questo supporto. Però la cosa interessante è un'altra. Quindi, come stavo dicendo, vediamo, come avevo anticipato, vediamo che cosa è successo nell'argento. Ad esempio, nell'argento vediamo che la giornata di ieri invece è stata, la giornata di ieri, il 22 appunto, è stata al contrario leggermente positiva appunto per il metallo che ha un utilizzo più industriale. Mentre la giornata di oggi vediamo che già ha una forte flessione e sta toccando appunto l'importante resistenza a intorno a 16 dollari, 15,96. Bene, l'idea è che ci sia una momentanea decorrelazione tra questi due mercati. Quindi, ritornando all'oro, possiamo vedere come, ecco, questa, diciamo, la validità di un'analisi con un'operazione eventualmente long, con stop molto stretti al di sotto della linea di supporto, sia anche suffragata dalla bassa quantità di volumi che ci sono stati in questa flessione. Dobbiamo porre attenzione naturalmente perché in questo caso vediamo lo stocastico che sta dando indicazioni negative. Quindi, se da una parte, diciamo, potrebbe esserci un'ulteriore fase laterale o nei prossimi giorni una probabile tentativa di ripresa, dobbiamo stare attenti perché chiaramente volumi bassi e stocastico in flessione potrebbe dare un falso segnale. Bene, per oggi è tutto, vi ringrazio per la vostra attenzione, invito tutti quanti a condividere il video nei vostri principali social network e a contattarmi seguendo l'indicazione in alto del mio sito. Grazie a tutti, buon trading a tutti, Carlo Vallotto, metallepreziosi.it